Il dissequestro della scuola di Via Torino a San Genesio dei giorni scorsi ha portato con sé alcuni riempimenti pratici da sbrigare, non solo la pulizia delle aule e lo sfalcio dell'erba, documentato dalle nostre telecamere, ma anche la gestione del servizio Mensa, servizio che era stato sospeso dal comune di San Genesio alla luce della chiusura e dell'impossibilità di conoscere con esattezza i tempi della riapertura. Il dissequestro del plesso, che ospita Primaria e Scuola dell'Infanzia, ha fatto ripartire l'iter per la fornitura dei pasti ai piccoli studenti dell'Istituto di Via Torino. Nell'ultimo anno i bambini erano stati trasferiti infatti a Pavia, dove c'era già un servizio Mensa funzionante. L'amministrazione comunale di San Genesio ha così provveduto a rielaborare il contratto con alcune piccole variazioni attraverso una determina dirigenziale. Il documento spiega che si potrà riprendere l'accordo stipulato nel mese di novembre di tre anni fa con Sistemi Italiani Ristorazione con sede in provincia di Bergamo per il servizio di rifezione scolastica presso la Primaria e la Scuola dell'Infanzia. Il nuovo accordo durerà fino al 31 agosto del 2025. Dopo quasi un anno di chiusura, la Scuola dell'Infanzia riaprirà ufficialmente giovedì 5 settembre. I sigilli erano stati apposti nel mese di novembre del 2024 all'interno dell'inchiesta CLEAN condotta dalla Procura di Pavia e sviluppatasi su due fronti, uno riguardante ASM e l'altro gli appalti dei lavori eseguiti all'interno del plesso scolastico di San Genesio. Ma i dubbi sulla bontà degli interventi realizzati emersi a seguito di alcune intercettazioni sono stati fugati dai controlli meticolosi disposti dalla Procura. Nel plesso che ospita la Scuola Elementare e dell'Infanzia di San Genesio non sussistono problemi di sicurezza.